L'innovazione made in Puglia continua a mietere successi. SMAO Milano 2011, il salone leader in Italia per l'Information Technology, si è concluso per la Puglia con tre vincitori. Un'ottima notizia per l'assessora regionale allo sviluppo economico Loredana Capone, che non ha perso l'occasione per sottolineare come la Puglia sia stata l'unica regione del Sud ad essere premiata a SMAO. Due dei vincitori sono amministrazioni pubbliche, la provincia Barletta Andrea Trani e l'avvocatura distrettuale di Stato di Bari. L'altro un'azienda privata, la Geatecno SRL di Modugno in provincia di Bari, che opera nel settore delle energie rinnovabili. La Puglia, tra l'altro, è stata l'unica regione del Sud con proposte vincenti su oltre 500 candidature totali e 80 finalisti selezionati. Io credo che sia un importante riconoscimento, ma soprattutto sia il risultato di investimenti importanti, che non solo l'ente regione, ma anche attraverso lo stimolo dell'ente regione, ormai sia le amministrazioni sia le aziende svolgono in Puglia. Vuol dire che c'è una comunanza di intenti che porta questa regione ad essere un altro Sud, un Sud che vuole uscire dalla crisi puntando appunto sullo stare dei mercati, quelli nazionali e quelli internazionali, attraverso proprio la capacità di essere migliori, di innovarsi.